In questa lezione vediamo alcuni esercizi su come calcolare la caratteristica di una matrice. Ricordiamo che la caratteristica di una matrice è la dimensione della più grande sottomatrice con determinante diverso da zero. Consideriamo questi tre esempi, la matrice A, la matrice B e la matrice C. Se calcoliamo il determinante della matrice A, troviamo che è uguale a 47. Allora, esiste una sottomatrice di A, che è A, che ha determinante diverso da zero. Quindi la caratteristica della matrice A è la caratteristica massima possibile, ovvero 3. Se invece calcoliamo il determinante della matrice B, troviamo che determinante è uguale a zero. Quindi possiamo già dire che non esiste una sottomatrice quadrata di ordine 3 con determinante diverso da zero. Dobbiamo quindi restringerci alle sottomatrici di dimensione 2. In particolare possiamo provare a considerare questa sottomatrice che ha determinante uguale a 3 meno meno 4, quindi ha determinante uguale a 7, che è diverso da zero. Allora esiste una sottomatrice quadrata di ordine 2 della matrice B, che ha determinante diverso da zero. Questo è sufficiente per poter concludere che la caratteristica della matrice B è uguale a 2. Per la matrice C vediamo che le tre righe sono proporzionali, quindi sappiamo già che il suo determinante è uguale a zero. E poiché le righe sono fra loro proporzionali, sappiamo anche che non esiste, non solo non esiste una matrice di ordine 3, quadrata di ordine 3 con determinante diverso da zero, ma non esiste neanche una sottomatrice di ordine 2 con determinante diverso da zero. E quindi concludiamo che la caratteristica della matrice C è uguale a 1. Consideriamo adesso d e g, che sono due matrici quadrate di ordine 2, e queste matrici rettangolari. Allora, per una matrice quadrata di ordine 2 la caratteristica può essere solamente 1 oppure 2. La matrice D ha determinante diverso da zero, quindi la caratteristica della matrice D è la caratteristica massima possibile, ovvero 2, mentre la matrice G ha determinante uguale a zero, quindi la caratteristica di G è uguale a 1. La matrice E è costruita in modo da contenere una sottomatrice quadrata, che è la nostra matrice D, più una colonna. Ora, siccome la matrice E è una matrice rettangolare, 2 per 3, la sottomatrice massima che possiamo costruire è una sottomatrice di dimensione 2, per esempio la matrice D, che sappiamo ha determinante diverso da zero, quindi la caratteristica di D è uguale a 2, anche la caratteristica di E è uguale a 2. Per la matrice F possiamo fare un ragionamento simile. In questo caso F ha tre righe, due colonne, quindi è 3 per 2 e anche in questo caso c'è una sottomatrice quadrata di ordine 2 con determinante diverso da zero, quindi anche la caratteristica di F è uguale a 2. Cosa succede quando abbiamo una sottomatrice quadrata come G? Abbiamo due casi. Nel caso di H la costruiamo in modo che contenga una sottomatrice quadrata, che è G, e un'altra colonna. La nuova colonna rispetta la stessa regola, se vogliamo, tra virgolette, della matrice G, ovvero la prima riga e la seconda riga sono proporzionali. Allora sappiamo che non esiste una sottomatrice quadrata di ordine 2 con determinante diverso da zero e quindi concludiamo che la caratteristica della matrice H è uguale a 1. Se prendiamo la matrice L vediamo che di nuovo compare tra le sottomatrici la matrice G, però per la terza colonna non vale più la regola del doppio, quindi per esempio riusciamo a identificare una sottomatrice quadrata con determinante diverso da zero, matrice quadrata di ordine 2. Allora la caratteristica della matrice L è uguale a 2, che in questo caso è anche la caratteristica massima possibile di una matrice rettangolare del tipo 2x3. Abbiamo quindi visto alcuni esempi su come calcolare la caratteristica di matrici quadrate e rettangolari di dimensioni abbastanza piccole. Lo stesso ragionamento lo possiamo applicare su matrici di dimensioni maggiori.